Se dovesse definire la sua arte, la collocherebbe nella pittura neofigurativa. Un'arte che delinea un suo profilo quale quello di un pittore internazionale e che a un certo punto della sua formazione decide di cimentarsi anche nella scultura. La voglia è quella di dare forma a quanto si ha dentro. Nelle sue sperimentazioni, così ama definirle, si evince una luce singolare che di certo lascia spazio all'immaginazione e all'identificazione della stessa con l'atmosfera che l'artista ritrova a Benevento come a Roma e a Rio de Janeiro. Ai nostri microfoni Mario Ferrante, di ritorno dall'esposizione di Berlino ospitata dall'Ambasciata del Brasile e presentata dall'Istituto Italiano di Cultura Locale. Ritengo che sia doveroso sottolineare la mia appartenenza alla brasilianità nella mia formazione. Io sono nato a Roma, quindi sono un puro italiano, ma sicuramente sono per tre quarti brasiliano nel cuore e nel cervello. Quindi è molto importante questo. E questo da cosa deriva, questa brasilianità? Deriva dal fatto che io sono andato in Brasile all'età di quattro anni e lì ci sono rimasto 11 anni, quindi la mia formazione è culturale, artistica, umana e sicuramente brasiliana e soprattutto direi il senso del religioso è brasiliano. Se volesse definire la sua arte, dove la collucherebbe? In un contesto di nuova figurazione che io ritengo sia fortemente presente in gran parte del mondo adesso. Credo che ci sia stata un po', come dire, una sostituzione delle avanguardie divenute ormai classico e quindi c'è questa voglia di riappropriarsi di elementi tecnici di nuova figurazione. Lei non soltanto ha creato quadri, quindi pitture, ma anche si è dato un po' alla scultura. Come mai? Beh, la diatriba circa la tridimensionalità, la bidimensionalità è una cosa molto antica e tante volte si ha in questo delirio di onnipotenza che è tipica dell'artista la voglia di dare forma anche, forma tridimensionale alle proprie creazioni e quindi la voglia di modellare la creta, di rendere viva i miei personaggi. Spesso le sue creazioni le ha definite sperimentazioni, perché? Ma l'artista è una persona che sperimenta sempre. Il giorno in cui dovessi smettere di sperimentare sarei un artigiano, un artiere, non un artista. La cosa importante che io ripeto ai miei allievi è un pensiero di Tristan Zara che è la persona, è l'opsodonimo dell'artista che ha inventato il dadaismo e lui dice di amare un'opera d'arte per la sua novità. L'opera d'arte è sempre una cosa nuova e quindi bisogna sperimentarla. E nei suoi quadri è possibile vedere anche una luce sannita, quindi di Benevento? Assolutamente sì. Io da quando sono approdato a Benevento ho sempre detto che per quanto possa sembrare paradossale ho trovato la stessa magia che trovo a Rio de Janeiro la trovo anche a Benevento. Sarà per questo passato di stregoneria, sarà per l'incantesimo di certe luci che solo nel sannio ci sono, sarà per la magia anche dei suoi personaggi. Sta di fatto che il sannio secondo me è una terra magica, profonda, di grande spessore. E in cosa è possibile riscontrarla? Nei colori, nell'utilizzo del pennello, in qualche tecnica particolare? Sicuramente della voglia di sintesi. Il sannita, secondo me, è un personaggio capace di grande sintesi rispetto al napoletano che è geograficamente poco distante, è meno prolisso, è più teso alla interiorizzazione dell'espressione e quindi in questo senso è molto magico. Tra le sue ultime creazioni è anche qualcosa che è stato presentato a Berlino, non pochi i premi e i riconoscimenti ottenuti. Cosa vuol dire per lei? Beh, il bagno di folla, come dico io, è sempre una cosa molto bella, no? Il successo vero di un personaggio pubblico è dato non tanto dalle critiche scritte, che sono importanti sicuramente, ma quanto dall'affetto che si percepisce proprio a pelle. Berlino è stato per me un motivo di grande meraviglia. Il fatto di aver visto personaggi italiani venuti lì apposta per me è stata una cosa bellissima. Quindi sentirmi circondato da persone che hanno finalmente capito, per un artista, il premio più grande è essere capito. Io spesso faccio riflettere sull'origine della parola capire, viene dal latino capere, contenere. Quindi una persona che ti capisce è una persona che riesce a contenere il tuo messaggio, questo è bellissimo. Proprio a proposito di consigli, quali sono quelli che dà ai suoi allievi? Beh, quello di avere sempre un grandissimo senso della ironia, prendersi in giro, ecco, non essere mai seriosi. Voglio dirle questo, mi permette di dirle questo, non c'è nessuno di più serio al mondo di un bambino che gioca. Il bambino gioca molto seriamente e l'artista deve essere una persona capace di giocare con grande serietà. Il mondo dell'arte è uno di quei mondi che non sarà mai saturo abbastanza. Un consiglio da dare a un giovane pittore? Mettersi a guardare ai grandi, tra virgolette, del passato con un senso di grande umiltà, grandissima umiltà. Io non ho mai conosciuto una persona veramente grande che non fosse veramente umile.